La musica e lo spettacolo per parlare dei grandi temi della contemporaneità. Domani parte l'Adriatico Mediterraneo Festival edizione 2012. 200 artisti e intellettuali che in nove giorni si avvicenderanno sul palcoscenico naturale del frontemare ad Ancona. Giornata inaugurale oggi pomeriggio con il conferimento del premio al filosofo Massimo Cacciari. Ce ne parla il direttore artistico Giovanni Seneca. Da sempre ho avuto un occhio molto attento sui fatti che accadono nel Mediterraneo, gli scontri. In particolare il filosofo ci offrirà nella serata inaugurale, quindi il 25 alla Corte della Mole, una lezione incontro proprio inedita sul tema del mare Nostrum. Ogni anno nel Mediterraneo vediamo accadere tantissime cose. Noi semplicemente cerchiamo in maniera molto senza la pretesa di essere esaustivi di fotografare quelle che sono le tendenze. Per esempio l'anno scorso c'è stato un grosso focus sulla primavera araba. Quest'anno cerchiamo di capire se la primavera araba, che cosa è successo, come le aspettative sono state in qualche maniera deluse o portate avanti. Gli appuntamenti sono ingresso gratuito, eccetto per i sei spettacoli serali con i big alla Corte della Mole e Van Vitelliana, prezzo popolare 5 euro.